Benvenuti ad una nuova puntata di Scienze in Bici alla lavagna. L'FTP è un parametro ormai molto sdoganato, se ne parla ovunque, si utilizza su tante piattaforme come TrainingPix, Garmin Connect, Strava, Swift. Swift addirittura ci chiede l'FTP per impostare gli allenamenti o anche per farci accedere a una determinata categoria quando si fanno le gare. In base alla nostra FTP rispetto al nostro peso ci metterà in categoria A, B oppure C o D. Ecco, questo parametro se da un lato è molto esemplificativo della condizione di un ciclista, permette con un solo numero di dirci quanto forte possiamo essere, in realtà non riesce a descrivere bene questo ciclista, o meglio, non riesce a far capire i risultati che può potenzialmente ottenere un ciclista con questo singolo numero. È molto più interessante considerare la Critical Power V Prime insieme di questi due valori che oggi andremo a spiegare meglio. Vi siete mai chiesti cos'hanno in comune Bissiger e Van Aert? In realtà più di una cosa, entrambi pesano 78 kg da quello che leggo su ProCyclingStat e in base alla loro performance a cronometro, vista anche la loro corporatura, dovrebbero condividere anche la FTP. Più o meno dovrebbe essere molto simile, si può stimare attorno ai 420 Watt. Ma quindi, se hanno la stessa FTP e pesano più, lo stesso, 78 kg entrambi, perché uno riesce a ottenere risultati in tantissimi tipi di corsi differenti, mentre l'altro, finora è emerso soltanto a cronometro, probabilmente farà soltanto questo, se non qualche classifica generale di piccole corsi a tappe? Bene, disegno il loro andamento ipotetico, pensato da me, ipotizzato da me, della loro curva potenza, in base al tempo di applicazione di quest'ultima, e vedrete quanta differenza c'è, anche se condividono peso ed FTP. Questo è un grafico potenza-tempo, che abbiamo già visto in precedenti video. Qui abbiamo l'unità di misura del tempo, espressa in modo logaritmico, quindi gli intervalli non sono lineari, ma sono logaritmici. Da qui a qui sono 5 secondi, da qui a qui sono 40 minuti, quindi aumenta parecchio la distanza tra i vari intervalli, man mano che ci si sposta verso destra. Mentre qui abbiamo la potenza, ho indicato solo il valore di 420 Watt, che stimo più o meno possa essere l'FTP di entrambi i corridori. Come potete vedere però Van Arta, questa curva tutta molto più alta rispetto a Bissinger, per tutto quello che viene prima alle 60 minuti. Volendo che i 20 minuti, più o meno, dovrebbero essere simili anche in questa zona, tiriamola giù un po' di più, però ci siamo. Siamo dai 20 minuti indietro, Van Arta è decisamente più forte, e lo si vede anche con risultati. Van Arte vince le volate di gruppo, Van Arte attacca sulle cote, sui tratti in pavè brevi, nelle gare di cielo cross, Van Arte molto forte in salite brevi, quindi più esplosive. A cronometro in realtà si equivalgono, vanno forti entrambi nella stessa maniera, considerando anche il loro peso. Quindi l'FTP, anche l'FTP fratto peso, potenza fratto peso, da qui si può vincere, che non riesce ad iscrivere bene un corridore, c'è soltanto un parametro aerobico di quanto forte può essere su sforzi prolungati e continui. Quindi c'era necessità di trovare qualcos'altro che potesse spiegarci tutto quello che c'è a sinistra dell'FTP, per intervalli inferiori, 40-60 minuti. Ed è proprio qui che entra in gioco la Critical Power e il V Prime. Cominciamo con le definizioni, cercherò di trattare l'argomento nel modo più semplice possibile, per quanto possibile, per quanto io riesca a farlo. Se volete trattazioni più tecniche c'è tantissimo online, soprattutto in inglese. Provando a fare le cose semplici, l'FTP è la potenza massima sostenibile per un'ora consecutiva. La Critical Power invece è quella potenza in cui il lattato raggiunge un livello stabile il più alto possibile, cioè la potenza in cui si riesce a produrre l'attato in maniera stabile, senza che aumenti progressivamente, cosa che succede quando l'intensità va oltre la Critical Power. Se l'FTP per definizione è sui 60 minuti, anche se ultimamente tante persone cominciano a dire no è 40, no è 30, no è 20, in realtà l'FTP a 60 minuti è nata così, si cerca di ridurre questo tempo proprio perché 60 minuti diventa poco utile nel ciclismo di tutti i giorni, perché è difficile che una persona faccia uno sforzo costante, massimo di 60 minuti. Deve farlo stealth, deve fare una salita molto lunga, è molto più utile per affrontarsi su, è molto più realistico poi, per affrontarsi su sforzi attorno ai 20 minuti. E si è visto che la Critical Power, diciamo, questa soglia di lattato costante più alta possibile va da 15 a 35 minuti, io ho messo 20 minuti per semplificare le cose, ma non c'è un'unità di tempo specifica come per l'FTP. Infatti la Critical Power è un asintoto, una linea orizzontale, che si traccia nel punto in cui la curva, potenza tempo, va più o meno a spianare, c'è un punto in cui scende, 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 diventa quasi orizzontale. In quel punto possiamo mettere la Critical Power, anche se non è un punto, è proprio una fascia di tempo, per poi ricominciare a scendere leggermente, via via, che tutta la capacità anaerobica viene meno e si va avanti soltanto per resistenza, per lo più lipidica, più che glucidica, e lì appunto c'è l'FTP. Cos'è il V'? Il V' non è una potenza, ma è un lavoro, V arriva da work, lavoro, e il lavoro è potenza per tempo, per cui viene continuato a erogare quella potenza lì. Quindi, visto che questo è un grafico potenza-tempo, il V' non è un punto, ma è un'area, è tutta quell'area qua. Potenza per tempo, area del V', quindi un lavoro che si esprime appunto in J ou KJ, più comunemente, e non in Watt. Quest'area è interessante notare come più è grande, più effettivamente è alto il V'. Statisticamente un V' va da 10 a 40 KJ, più è alto, più una persona è forte anaerobicamente, quindi è più adatta a fare volate, sprint, accelerazioni massimali, cose insomma nell'ordine da un secondo a 15 minuti, in quell'ordine quali tempo, più verso i 2-3 minuti diciamo. E la cosa curiosa è che, essendo un lavoro, quindi essenzialmente un'energia, visto che si misura in Joule, può essere considerata come una batteria. Cioè, finché abbiamo energia, abbiamo una certa batteria, che andremo a consumare quando faremo lavori più intensi rispetto alla Critical Power. Quindi, lavori con una potenza maggiore di CP, utilizziamo questo serbatoio di energia che verrà consumato piano piano. Come smettiamo di spingere, torniamo a parametri sotto Critical Power, questo serbatoio ricomincia a riempirsi, perché lo smaltimento delle scorie anaerobiche avviene appunto anche questo rapidamente nel nostro corpo, più o meno rapidamente. E questa quantità dipende ovviamente dall'intensità del tempo a cui si vuole utilizzare. Ad esempio, se voglio ottenere una certa potenza per un certo tempo, l'area che utilizzerò di V-prank sarà questa, se voglio ottenere una potenza inferiore ma per un tempo maggiore, l'area sarà questa. Qui l'ho disegnato veramente male, ma genericamente queste aree dovrebbero essere uguali. Cioè, l'area che va a utilizzarsi in base al punto in cui entriamo sulla linea dovrebbero essere simili, perché la riserva di V-prank che abbiamo è sempre quella. In termini concreti, cosa ci serve questa cosa? Ci serve a capire quanto un corredore è forte in sforzi inferiori rispetto a Critical Power, inferiori ai 20 minuti. Ora, andiamo a misurare, o meglio, andiamo a vedere come vengono misurate queste quantità. Se vogliamo scomodare ancora i nostri tester cavi Van Aert e Bissinger, per far capire il V-prank, qui si vede ancora più facilmente. L'area di Bissinger è questa, ed è sicuramente inferiore rispetto all'area di Van Aert, che oltre a questa, anche tutta questa. Quindi Van Aert ha molto più V-prank rispetto a Bissinger, ha una batteria di capacità anaerobica molto più capiente e quindi può fare sforzi sopra Critical Power più lunghi e più intensi rispetto a quelli di Bissinger. I programmi di cui ho parlato all'inizio, quindi TrainingPix, Strava, Swift, Garmin Connect, ma anche GoldenCita, che è gratuito, creano in automatico una curva di questo tipo raccogliendo i nostri dati allenamento se abbiamo un misuratore di potenza, e lo fa in automatico. Spesso vi farà anche vedere quello che potenzialmente potremmo sviluppare a vero di potenza in un determinato range di tempo se non abbiamo mai fatto potenze massime per quell'intervallo di tempo lì. Mi spiego meglio. Se, ad esempio, facciamo una nostra potenza massima sui 20 minuti, una potenza massima sui 10 minuti, una potenza massima sui 5 minuti, ma tra 5 e 10 minuti non facciamo nulla che ci porti veramente a dare tutto, avremo una potenza reale, cioè quella che vediamo nel nostro grafico, che sarà più bassa rispetto a una potenza matematica che viene stimata rispetto a quello che potremmo realmente fare se ci impegnassimo al massimo su uno sforzo di 7 minuti e mezzo. Ok? Quindi, quella blu è una curva matematica pensata per intersecare la curva reale nei punti più alti e stimare quello che potenzialmente potremmo fare se ci mettessimo al massimo di impegni in unità di tempo in cui magari non ci siamo mai impegnati. Quindi da qui si può capire come per creare una curva di questo tipo e quindi ricavare indirettamente V' e Critical Power basti fare degli sforzi massimali di durate differenti. Quindi si può capire facilmente che per ottenere una Critical Power attendibile bisogna fare 2, meglio 3, meglio 5 sforzi massimali su durate differenti. Il protocollo più semplice è un test singolo, essenzialmente chiede di fare 3 minuti a tutta, cercano di dare tutto subito, quindi massima potenza possibile all'inizio, per poi gestire questo caldo della potenza e riuscire a fare gli ultimi 30 secondi a potenza costante. Quindi avremo una potenza che sale subito, poi scende, 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 e gli ultimi 30 secondi, se sono orizzontali, a potenza costante potremo ottenere quel parametro come attendibile. In realtà questo tipo di test è molto difficile da fare perché bisogna veramente riuscire a incastrare la potenza fatta per riuscire ad arrivare a 3 minuti e avere ancora quell'energia necessaria per fare una potenza costante per 30 secondi. Molto più comune il test Critical Power ha più intervalli di tempo. Generalmente questi intervalli devono andare da 2 minuti a 15 minuti. In realtà dipende, si possono fare diversi protocolli, ce ne sono tanti online che potete trovare. Forse quello più attendibile è dividere il test in due giorni. Nel primo giorno si fa uno sforzo massimale da 15 minuti e poi uno sforzo massimale da 2, e il giorno dopo si fa uno sforzo massimale da 10 minuti e uno sforzo massimale da 4, recuperando sempre mezz'ora, pedalando tranquillamente tra un test e l'altro. Con questi quattro valori raccolti in due giorni si va a creare questa curva e matematicamente Apple Software creerà la linea che ci permetterà di capire ad ogni intervallo di tempo quanta potenza potremo sostenere e stimerà anche la nostra critical power. Perché? Perché sapendo quanto forte siamo a intervalli brevi e sui 12-15 minuti, quindi a livello aerobico-glucidico, riuscirà a stimare qual è la nostra potenza media massima sostenibile per intervalli medi appunto tra i 15 e i 35 minuti. Per questo motivo può venire facile intuire che grazie ai programmi di analisi che abbiamo adesso e ai misuratori di potenza non è veramente necessario fare dei test in laboratorio in modo continuativo o meglio. È sempre utile farli perché il laboratorio ci permette di avere le costanti ambientali replicabili sempre uguali, quindi stesso ruolo, stessa temperatura, stesso tutto, quindi possiamo quantificare in modo preciso i miglioramenti, su strada ci possono essere più variabili. Però un tipo di grafico di questo tipo si crea in automatico se noi andiamo a tutta per intervalli di tempo differenti. Quindi se facciamo spesso gare di diverso tipo, quindi con salite lunghe, salite brevi, gare in circuito, si creerà naturalmente una curva di questo tipo che rispecchia parecchio quello che potenzialmente potremmo fare per ogni intervallo. Viceversa possiamo ricercare noi stessi di dare delle prestazioni a tutta per intervalli di tempo che possiamo scegliere. Quello che vi consiglio sempre di fare comunque è una volata massimale per identificare il punto più alto da cui parte la linea. Essenzialmente fate uno sprint a tutta di 4-5 secondi, potenza massima che leggete andrà qui. E poi intervalli inferiori. Il minuto, l'intervallo da un minuto non viene considerato, generalmente si tende in letteratura a partire da due minuti in avanti. In realtà secondo me l'intervallo da un minuto è molto importante perché c'è la massima potenza, la tacida, e quindi lo fare comunque perché va veramente a identificare anche una tipologia di corridore. Poi ovviamente quello sui 2-3 minuti va bene, quello sui 5-6 minuti che identifica la massima potenza aerobica, il massimo consumo d'ossigeno va benissimo. un intervallo su 12-15 minuti che ci dice la potenza aerobica glucidica, c'è quella prodotta utilizzando principalmente solo carboidrati. Poi il vero FTP, c'è quella da 60 minuti, in realtà è una potenza lipidica quasi, dove si iniziano ad utilizzare anche i grassi e comincia a contare veramente tanto la resistenza alla fatica, che è un altro aspetto. Questo modo di intendere la potenza, quindi cercare di dare un valore un pochino più attendibile dell'FTP, cioè due valori, il V-prime e la Critical Power, è condiviso da tanti, anche dai stessi inventori del parametro di FTP, Allen & Kogan, che hanno introdotto appunto il training pixel FRC, la Functional Reserve Capacity, che essenzialmente è un V-prime con un altro nome, si esprime anche esso in Kilojoule e funziona bene o male alla stessa maniera. Quindi spero che da questo video si possa capire quanto è importante non considerare solo l'FTP, che comunque è un parametro molto importante, che ci dice tanto su un atleta, ma non tutto, perché ricordate che in gruppo ci sono i Bissinger e ci sono i Van Aert. Chicca finale, questo è un protocollo che ho inventato io qualche anno fa, che permette di trovare l'AFTP, quindi non Critical Power, però attraverso dei parametri di Critical Power, quindi con potenza su un minuto e 12 minuti. Perché questo? Perché capisco che l'esigenza di avere l'AFTP come parametro da inserire nelle varie piattaforme è indispensabile, però con questo metodo, secondo me, si riesce un attimino a evidenziare le caratteristiche di un corridore e trovarlo anche in modo più semplice rispetto a un test dell'attato o al protocollo Kogan 5 più 20. In questo caso basta fare un minuto a tutta, recuperare completamente, quindi mezz'ora, un'ora tranquillamente, e poi 12 minuti a tutta. Si divide la potenza di un minuto fratto la potenza di 12 minuti, se il parametro viene sotto 1.6 siamo defondisti, tra 1.6 e 1.9 siamo a corridori completi, sopra 1.9 siamo velocisti, comunque scattisti, corridori molto forti da tacitamente. Una volta che si ottiene questo parametro della divisione di potenza di un minuto fratto 12 minuti, in base alla categoria in cui siamo, questo parametro andrà moltiplicato per 0.94, 0.92, 0.90. Il significato qual è? Che un velocista, che è molto forte a tacitamente, tenderà a utilizzare molto del suo V' per arrivare a 12 minuti, perché ne ha tanto, e quindi bisognerà togliere di più, moltiplicare per 0.90 vuol dire togliere di più che moltiplicare per 0.94. Quindi un velocista si toglie tanto, perché sennò si rischia di sovrastimare l'FTP. Mentre un fondista che di V' ne ha poco, ma ha tanta capacità aerobica, bisogna togliere un po' di meno, quindi moltiplichiamo per 0.94, perché il suo valore di 12 minuti è già vicino a quello che potrebbe essere l'FTP. Ovviamente bisogna togliere un 6%, qui però bisogna togliere un 10%. Ecco, questo tesca avevo inventato io, però vedo che funziona bene, l'ho fatto all'osservazione dei parametri di atleti che seguivo, e niente, un regalo per voi. Siamo arrivati alla fine di questo video, so che qualcuno di voi avrà ancora dei dubbi, questo deriva dal fatto, oltre a noi non sono stato bravo io a spiegare, però deriva dal fatto che ogni preparatore ha le sue tempistiche, i suoi intervalli, il suo numero di ripetizioni richieste per riuscire ad arrivare a un parametro di critical power, proprio perché la critical power si presta ad essere interpretata dai vari allenatori, anche in base al soggetto che hanno davanti. Quindi non è un test a protocollo standard, come avviene per altri tipi di test, qui varia molto in base all'esperienza dell'allenatore, quindi anche la spiegazione non è così precisa come può essere un test FTP. Però la verità di solito sta sempre nelle sfumature, quindi secondo me un test di questo tipo, comunque un'analisi corridore di questo tipo, rispecchia meglio quella che è la realtà rispetto a un semplice numero che è la FTP. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un bel like, scrivete qui sotto le vostre domande, così magari posso fare altre puntate alla lavagna in base a quello che mi chiedete voi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!